37 molto più vaste lo strumento del cerchio umanità in movimento dice che prima di produrre le materializzazioni chiamate apporti avverte una vibrazione che gli sale dai piedi e invade progressivamente tutto il corpo in genere l'apporto avviene dopo poco tempo perché commento perché tutto il corpo fisico dello strumento unito al corpo astrale inizia a vibrare sempre più velocemente per preparare lo strumento alla condizione dell'apporto questa doppia vibrazione del corpo fisico e del corpo astrale permette allo strumento di vivere l'unione dei due corpi che in quel momento si trovano congiunti in realtà la vibrazione inizia all'esterno del corpo fisico ma lo strumento l'avverte alle estremità o a partire dalla testa o a partire dai piedi la vibrazione inizia all'esterno perché gli altri corpi hanno dimensioni molto più vaste di quelle che appaiono al corpo fisico grazie a tutti Grazie.